Oggi vediamo Come si possono unire due canzoni O anche solo due brani Estratti da due canzoni In un brano singolo Naturalmente invece che due Possono essere tre, quattro, cinque Quante se ne vuole Si usa il programma E-WiSoft Free Video Converter Che Oltre che A funzionare con i video Funziona anche benissimo per gli audio Prima cosa dobbiamo impostare Il profilo di uscita Andiamo qua su Per prima cosa bisogna scaricarlo Scaricarlo Nel Tutorial testuale Vi darò il link Si scarica da questa pagina Ci sono due Mirror E non ci sono problemi di installazione Per impostare il profilo di uscita Si sceglie chiaramente Common Audio MP3 Ma si può scegliere anche un altro formato Se vogliamo Qui ci sono praticamente tutti i formati Audio più comuni In questo caso Lavoriamo con l'MP3 Dopo andiamo su Add E Importiamo le canzoni Da cui Che vogliamo unire Andiamo qua Vediamo un po' se le trovo L'avevo preparato Qui Ecco Apriamo questa E poi apriamo anche la seconda Si potevano aprire anche tutte e due insieme Adesso possiamo La prima è di 3 minuti e 39 secondi La seconda è di 3 minuti e 47 secondi Possiamo unirle tutte e due Per fare una canzone di Oltre 7 minuti di lunghezza Oppure possiamo Estrarre un pezzo Dalla prima canzone E unirlo A un pezzo estratto Dalla seconda canzone Dunque Selezioniamo Una Dei due pezzi E andiamo su Edit La canzone Inizierà a riprodursi Possiamo stopparla Noi possiamo Scegliere Diciamo così Con questo cursore Il punto Iniziale Da cui Estrarre Il nostro audio Vediamo un po' Che ha detto Che tutto quello Che cerchiamo Non è sul campo Di un andare Perché le stelle Puoi guardare Solo da lontano Ti aspetto Dove la mia città Scopare E lo ripeto Per dedicare E mi ha fatto Agli occhi Non si è pieno Male Coraggio Lasciare tutto E dietro E andare Abbiamo scelto Questi due Questo punto Di partenza Dell'estratto Della parte Della canzone Da estrarre E questo qui È il punto Di arrivo Diciamo quindi Noi estrarremo Da questa canzone Questo pezzo Che va da qui Va bene Quando Di qui di sotto Ci sarà Quindi Il tempo Di partenza Un minuto E il tempo Di arrivo Un minuto E 16 Quindi abbiamo Estratto 16 secondi Da questo brano Andiamo su Ok E quindi su Ok E quindi Vedete Abbiamo Estratto 15 secondi Dal primo brano Possiamo fare La stessa cosa Con il secondo brano Lo selezioniamo Andiamo su Edit Qui abbiamo preso Questo spazio Che va da questo punto A quest'altro Cioè da 35 secondi A 43 secondi Per un totale Di 8 secondi Andiamo su ok E quindi su ok A questo punto Abbiamo scelto 15 secondi Dal primo brano E 7 secondi Dal secondo brano Adesso Per poterli unire Bisogna mettere La spunta qui Su Merge Into One File Si va Su Start E si inizia La conversione Che Si sarà Di In due Di due Parti La prima parte Servirà per estrarre Questi due Brani Da queste due Canzoni Una di 15 E una di 7 secondi Con la seconda parte Ci saranno Unificati I due Brani In uno soltanto Per un totale Quindi di 22 secondi Andiamo su Start Naturalmente Dobbiamo impostare La cartella di uscita In questo caso È la cartella Download Vedete La cosa è stata Piuttosto semplice Il risultato è questo Che come vedete È di 23 secondi Cioè esattamente Il La durata Che abbiamo impostato Ci sarà La prima canzone E la seconda Unita insieme Io ho fatto Questa operazione Con due Canzoni Si può fare Con tre Con quattro Con cinque Con sei Con quelle Con un numero Praticamente Ora Dunque Questo è tutto Tutte le volte Che aprirete Questo programma I WithSoft Con video Converter Si aprirà La pagina Di Di download Che Vi Dirà Se il programma È Aggiornato All'ultima versione Oppure no E questo Diciamo È tutto Diciamo